Io mi chiamo Colavevi Felici, è da degli altri anni che vado a Tartuco, adesso sono un paio d'anni che non vado più perché non sto bene, però saranno circa 40 anni che vado a Tartuco, prima magari ci stava qualcosa, adesso invece ce n'è poco, hanno pure l'abituto di andare quando sta chiuso e levano il fiorone e cose, non è bello insomma queste cose qua. Allora io sono Franco Ianniro e anche io vado a Tartufi, diciamo che ci vado sporadicamente perché lavoro, qui il territorio diciamo che si presta a questo tubero e come diceva Felice lui è un vecchio tartufaio e anno dopo anno sono usciti fuori le nuove generazioni che stanno portando avanti la raccolta del tartufo. L'aria basta quindi ci permette di svariare su tutto il territorio e stamattina siamo usciti con Alessandro. Sono Alessandro Tasillo e vado a Tartufi a tempo pieno ed è una tradizione che mi ha trattato mio padre e che l'ha fatto per hobby anche lui da diciamo più di 30 anni. E niente come diceva Franco l'aria è molto buona per il tartufo anche se l'annata non è delle migliori e infatti questa mattina ci ha consentito di raccogliere solo poco di tartufo bianco freggiato. Qualche piccola pallina che comunque ci fa vedere almeno il colore e il sentire l'odore.